Buongiorno a tutti, come state? Bentornati qua sul canale di Infugira YouTube. Eh sì, gli esami si avvicinano. Ma sì, dai ragazzi, non vi devo dire nulla, lo conoscete benissimo questo periodo. Il periodo di esami, dove uno studente che ovviamente ha voglia di studiare e tiene i suoi esami rimane praticamente rientrato e isolato dal resto del mondo per riuscire a ripassare bene tutte le cose e studiare. In particolare fare questa cosa all'università, soprattutto nella sezione esami prima di Natale, quindi ci siamo, non è una cosa semplice perché le lezioni proprio ti arrivano alla fine e poi tu hai due o tre settimane, quelle che sto passando io adesso, per rivedere un po' tutte le cose e passare l'esame. Chiaramente bisogna arrivare preparati, quindi io ci tengo. E allora, anche io, come molti miei colleghi immagino, sono rintanato con la testa a chino sui libri, sugli appunti e cose di questo tipo. E devo dire che delle volte non fa neanche troppo troppo bene, ma comunque questi sono altri discorsi. Detto ciò, come vedete è tornato il nostro amatissimo Windows e avevo già fatto un video, quello che sarebbe dovuto uscire oggi, ma non sono riuscito a montarlo. Comunque, non vi lascio a mani vuote perché, combinazione, ho scoperto una cosa fantastica. Oggi ho acceso il PC perché dovevo fare due o tre cose con il mio PC Windows e ho scoperto questa cosa qua, riunione immediata. Non ho ancora idea di cosa sia, visto che adesso sto usando più il Mac, ma sicuramente presto un videino su quello si può fare. Vedi che cosa si scopre lasciando il PC Windows spento per qualche giorno, loro ti fanno un aggiornamento, tu non te ne accorgi e hai delle funzionalità in più. Buono, questa è una buona cosa. Nonostante questo, ragazzi, stavo pensando che siamo a fine anno e quindi il canale YouTube sta per compiere un anno. Pensate che roba, è un anno che mi sopportate, ragazzi. Vi ringrazio infinitamente per questo e ci stavo riflettendo ieri e ho detto, caspita, quasi un anno di video, quanto mi ha dato, quanta esperienza, che cambiamento che ho fatto dedicandomi a questo mondo, cercare di condividere qualcosa con voi, però di questo ne parleremo in un altro video. Quest'oggi vi voglio lanciare una sfida, un piccolo sondaggio, però sono curioso, chiamatelo sondaggio, sfida, come volete voi. Vorrei, ragazzi, che a voglia ovviamente sono un gioco, che mi scriviate nei commenti qual è stato il programma del quale non avete potuto fare a meno nel 2020, in quest'anno. Beh, chiedo questa cosa perché a me ha fatto riflettere, nel senso che chi di noi non sa che cos'è una chiamata, chi di noi non ha mai fatto una videoconferenza quest'anno o una call, un po' tutti siamo stati obbligati a fare questa cosa, non solo chi le conosceva o chi per lavoro doveva già farlo, ma un po' tutti abbiamo dovuto fare questa cosa. E in effetti questo periodo ha cambiato molto le nostre abitudini tecnologiche, chiamiamole così. Finalmente anche nelle scuole è stata introdotta un pelo più di tecnologia che probabilmente è utile, perché se una persona per qualche motivo un giorno dovesse essere assente, magari dall'anno prossimo alla lezione registrata, deve evitare di operarla da compagno da cose e invece sente la lezione registrata dal professore. Beh, questa cosa non è male del professor, dell'insegnante, a tutti i gradi di scuola si può fare un ragionamento di questo tipo. E quindi, quali sono stati i programmi che vi hanno influenzati di più, che avete dovuto utilizzare di più? Per esempio, per quanto mi riguarda, sapete che il canale sta per compiere un anno, il Foghira YouTube, e quindi uno dei programmi che ho utilizzato di più in assoluto, per esempio, è quello di registrazione, che mi consente di registrare questi video come sto facendo adesso e condividere con voi dei miei pensieri, delle mie scoperte, quello che credo sia utile condividere per la comunità di YouTube. Poi, oltre al programma di registrazione, appunto, non ho potuto fare a meno di utilizzare programmi tipo Skype o altre piattaforme come WebEx o Zoom per poter seguire le lezioni universitarie, per poter anche confrontarmi con compagni quando ci sono lavori di gruppo da fare o cose di questo tipo. Questo sappiamo che è dovuto più che altro anche al periodo che stiamo vivendo. Poi, dunque, altri programmi, fatemi pensare. Beh, non posso fare a meno, per esempio, sul Mac di CleanMyMac, per esempio, che è il programma che io utilizzo per pulire un po' il Mac dalle cioccerie che si formano sul disco e poi, insomma, per disinstallare bene i programmi, per tutte quelle cose lì. Su Windows io ho usato, vi faccio vedere, sto utilizzando molto adesso, per esempio, la Microsoft Whiteboard, questa lavagna qui che è molto comoda per poter scrivere, si può anche condividere, si può fare un sacco di cose e sicuramente ve la porterò in un video. Un'altra cosa che vi dico è che sto pensando a delle novità per il canale, per esempio, in un prossimo futuro vorrei dedicare del tempo dietro a una serie legata a un linguaggio di programmazione come può essere Java, come può essere C, che sono i due linguaggi che al momento ho studiato di più. Oppure potrei fare una serie che però sarebbe meno dettagliata perché lo conosco di meno, però potrei farla comunque sulla programmazione Visual Basic, che un pochino conosco. Non l'ho affrontata a livello universitario, però non la cavicchio, so fare delle cose interessanti, delle applicazioni utili e simpatiche. Detto questo vi invito sempre a consigliarmi, a suggerirmi degli argomenti che vi mancano all'interno del canale legati all'informatica, magari dite a me piacerebbe parlare di questo e se è una cosa che conosco la potrei postare volentieri. Per esempio, adesso mi sto sbattendo un po' la testa, devo cominciare a imparare un pochino l'atec perché l'università me lo richiede, tra virgolette, e quindi ho visto in giro che se tu lo sai usare c'è un fracco di roba, ma se non lo sai usare, devi proprio partire da zero, non ho trovato nulla che veramente mi possa aiutare. E quindi una volta, dopo che ho imparato un po', dopo che prendo un po' confidenza con questo, chiamiamolo linguaggio di programmazione, anche se non lo definirei proprio così, però chiamiamolo linguaggio di programmazione, potrei portarlo sul canale, potrei dare dei suggerimenti, potrei spiegarvi che cos'è, per esempio, potrei farmi vedere come impostare un documento e cose di questo tipo. Per ora non se ne parla, nel senso che non lo conosco, ho cominciato qualche giorno fa a basticarci un po', e quindi niente, però per il resto direi che si può fare. Bene, detto questo, il video può finire qui, io vi saluto, spero di pubblicare questo video il prima possibile, e ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao ragazzi, ciao, ciao.